Insalata di polpo e ceci, velocissima e squisita. Con il caldo che fa va bene anche il polpo surgelato, che è già bello morbido. Cuoci per una quarantina di minuti con i profumi e poi tagliala a pezzettini. Io in cottura metto alloro, pepe nero e sale, ma puoi aggiungere quello che vuoi. Adesso prendi dei ceci gelessati e aggiungili al polpo. Unisci anche la valeriana e condisci con succo di limone, un pizzico di peperoncino, un po' di sale e un filo d'olio. Mischia tutto per bene e sei già pronto per metterti in tavola. Quest'insalata è fresca, nutriente e buonissima. Provala anche tu!